Malik vuole acquistare una nuova bici e sta usando Bike Flip per cercare attraverso tutti i diversi tipi di bici. Facci vedere cosa c'è là fuori. Le veloci. Sicuramente non le più comode, ma possono sia portarti al lavoro che tenerti in forma. Ti fanno sfrecciare tra città e paesaggi mozzafiato. Fai attenzione però, se decidi di provarle, tieniti forte. Le cittadine. Prendi la vita con calma. Goditi il vento tra i capelli. Oh, che piacere guidare una bici così. Per non parlare del comfort. Chi non vorrebbe sedersi su una di queste? Ok, diamo un'occhiata a... Le elettriche. Sì, hanno un motore che... Sì, aggiunge quel tocco in più. Migliorano sempre la tua ride, ma... Occhio, creano dipendenza. Ah, Malik, cos'altro? Aha, le fuoristrada. Due parole, adrenalina e fango. Ciò che sale, devi anche scendere. Sentieri, oppure bike parks. Hai la possibilità di divertirti come preferisci. La scelta sta a te. Ok, Malik, ora è il tuo turno. Le freestyle. Vuoi imparare a fare acrobazie e salti? Vivi per la bicicletta? Ed è la tua forma d'arte? Queste sono quelle giuste, allora. Essenziali, robuste e leggere. Non tanto per andare da A, B, ma una figata a mezz'aria. Va bene, ci siamo. Tutto questo è a pochi clic da te. Allora, quale sarà la tua prossima bici?